ciao amici sono lox bentornati sui fatti e le opinioni di lox il canale per i veri malati di sport prima di tutto buona pasquetta a tutti vi chiedo scusa ragazzi sono in un ritardo assolutamente totale ho avuto un po di imprevisti trasferta sorpresa inconvenienti abbiamo fatto un mix di situazioni per le quali ho dovuto cambiare tutto il programma di queste giornate pasquali vi parlo oggi in questo video adesso di lecce napoli si è giocata venerdì sera scusate per il ritardo poi vi racconto come sarà la copertura del turno di oggi di serie b meraviglioso la giornata di pasquetta dedicata al campionato e io che coprirò tutto tra la notte domani cominciamo a parlare di lecce napoli 2 a 1 per il napoli lo sapete il titolo di questa partita credo che sia per il lecce che la squadra che seguo dall'inizio della stagione rassicurante io credo che la prestazione della squadra di baroni in questo caso sia stata positiva sia stata una prestazione che sicuramente toglie qualcuna delle preoccupazioni che sono nate dopo le ultime brutte sconfitte certo siamo a sei sconfitte consecutive ed è notizia veramente peggiore al di là della sconfitta penso relativamente preventivabile contro la prima della classe che è semplicemente a più 16 sulla seconda in campionato nella mediocrità assoluta del della lotta tra il secondo posto in giù di questo campionato italiano le vere notizie brutte per il lecce sono state venute da verona e la vittoria il recupero con il gol di gaich del verona contro il sassuolo un successo che mette la formazione scaligera ora a cinque punti da lecce che quindi si mette ora in una situazione dove deve assolutamente fare risultato però quello che mi sembra positivo è aver ritrovato la formazione che fino ad ora aveva fatto tanto bene nel campionato un lecce che è partito bene un napoli che ha giocato una partita quadrata onesta corretta non ha non ha strafatto ha fatto quello che gli serviva a fare per vincere la gara lecce era partito bene è riuscita a tirare in porta soprattutto che è quello che è mancato tantissimo nel corso della stagione fino nelle ultime partite della stagione è riuscita a tirare in porta ha avuto una chance anche con malè nei primi minuti di gioco sulla quale merete è stato bravo a mettere il barone in calcio d'angolo ha subito poi il gol del vantaggio del napoli però quando stava forse giocando un pochino meglio lecce nei primi al diciottesimo minuto su una situazione di palla inattiva nella quale il napoli è stato molto bravo con un centro di chimio un gol di di lorenzo a trovare il punto del vantaggio però quello che mi è piaciuto soprattutto della formazione di baroni in questo caso è stato l'inizio della ripresa dove ho trovato ho ritrovato il lecce di bergamo per esempio ho lecce che tanti altri contro la lazio il lecce che tanti altri bei risultati è riuscito a portare a casa un lecce arrembante un lecce che ci ha provato e che ha trovato il gol del pareggio in un'azione la quale si sia colpito la traversa e di francesco è stato bravissimo a superare un lobotka che è stato messo un po in difficoltà credo in questo caso dalla buona prestazione del centrocampo del lecce in generale la formazione di baroni e di francesco ha tratto la rete del vantaggio lì è stato poi la chance forse nella quale si poteva anche affondare ma il napoli ha avuto un giocatore che è stato a mio avviso superiore a tutti gli altri in questa gara di venerdì ovvero di lorenzo che oltre a trovare il gol del vantaggio è molto molto bravo nelle chiusure e in almeno un paio di circostanze nella ripresa ha salvato dei palloni veramente pericolosi nei pressi dell'area piccola di merè e proprio la differenza di chiusura dei terzini purtroppo è quella che poi di fatto ha portato la differenza in questa gara perché il gol partita del napoli nasce da una altra sfortunata chiusura fatta molto male da gallo esattamente come nella partita contro la fiorentina anche in questo caso chiude male sul centro di mario lui la sua deviazione verso la porta sorprende falcone io mi sento di dare pochissime colpe a falcone era quasi impossibile parare questa mina da due passi a sorpresa gallo che gli era buttata proprio nella direzione della porta non sapendo bene cosa fare sbagliando il controllo insomma una indecisione molto grave quella del giovane laterale del lecce esattamente poi peraltro pochi minuti dopo di lorenzo nella medesima situazione è riuscito invece al contrario rinviare molto bene e a salvare un'azione alla quale c'erano due giocatori del lecce pronti a mettere il pallone in rete poi la seconda parte finale della gara ha visto un lecce comunque pericoloso anche nel finale costruire calci d'angolo presente ho trovato molto positiva la prova di sisè che è un giocatore nella scelta ringrazio come sempre i tantissimi che commentano amici che commentano i video la settimana scorsa dopo la partita con l'empoli abbiamo parlato vi ho parlato anche delle mie perplessità sul modulo sull'usare perennemente per tutta la stagione lo stesso modulo io sono d'accordo sul fatto trovo anche bella l'idea strategica della società di costruire il modello un lecce che gioca 4 3 3 che gioca 4 3 3 anche delle giovanili costruire quindi giocatori che poi siano pronti anche una volta che approdassero in prima squadra a giocare con questo modulo però l'unica cosa che trovo che magari durante la partita ci può essere necessità stante il punteggio da recuperare di modificare un po' l'assetto ed è quello che un po' per scelta un po' per mancanze forse anche reali di alternative il lecce non riesce a fare sono contento della prestazione appunto sisè sicuramente mi è piaciuto molto più di colombo sapete io non sono un grandissimo tifoso di colombo ho trovato interessanti i minuti di volker l'imperson mi piacerebbe anche per lui vedere qualche minuto in più viceversa uden messo schierato dall'inizio ha fatto buone giocate ma gli è mancata forse quella continuità lungo tutta la partita bene baschi rotto è un titiri dietro ho trovato un male meno un po' più propositivo un po' più impegnato del solito questo è un altro è un'altra cosa credo positiva per la formazione di baroni viceversa nel napoli ve l'ho detto grande di lorenzo a mio avviso il migliore la forza è il napoli una squadra veramente quadrata completa sono molto curioso di vedere come andrà il quarto di finale contro il milan e milan una squadra secondo me inferiore a questo napoli in questo momento però da un punto di vista storico di esperienza il milan una società che ha una grandissima tradizione europea sarà una partita veramente molto molto interessante questo quarto di finale di champions league è un bel napoli non mi è piaciuto raspadori giocatore che non mi ha mai convinto e penso non riuscirà mai più di tanto a convincermi bene il centrocampo dove lo bot che è stato messo un po in difficoltà ma hanno fatto un ottimo lavoro sia el ma sia anghi sa giocatore del quale sono un tifoso personale e quindi lo trovo sempre veramente strepitoso ora importante attenzione in settimana napoli a questa gara con di coppa di champions contro il milan la partita di andata ma soprattutto la gara importante domenica prossima quando il lecce affronterà in casa la sandoria che ha perso la partita con la cremonese anch'essa nel recupero nel finale con un gol di ser nicola e quella che era probabilmente lo spareggio per cercare di avere ancora una chance piccolissima fiammella di rimanere in lotta per la salvezza lecce ora è costretto assolutamente a battere la samp e lì potrebbero venire quei tre punti da mettere un po più tranquilla la situazione l'atmosfera dietro c'è il verona punto che è tornato a vincere c'è lo spezia insomma sarà un rush finale molto molto interessante al quale credo che questa gara permetta grazie a questa gara permette a lecce di poterlo di affrontare comunque con la convinzione dei propri mezzi ho trovato una squadra più determinata più convinta e mi è sembrato davvero a tratti non per tutta la partita ma comunque di rivedere il lecce che mi è piaciuto tanto durante la stagione la vittoria di genova nel giro l'andata in novembre fu uno dei momenti più belli di questa è stato uno dei momenti più belli di questa stagione mi aspetto domenica la stessa cosa 12 30 lecce in video chi sarà lì io purtroppo non riesco a una trasferta anche domenica non sarò presente ma è una gara da non perdere e fatemi sapere anche le emozioni dello stadio video lungo pagelle poi attendo i vostri commenti 6 a falcone 6 a tre 6 e mezzo a baschirotto e um titi 5 a gallo 6 a gonzale 6 a julman 6 e mezzo a malè premio mezzo punto in più perché vi dico più come vi ho detto prima secondo me una prestazione più positiva del solito 6 a udense e mezzo a sisè 7 a di francesco prontissimo in occasione del gol se a baroni e positivo tra i subentrati soprattutto fulkerling person per il napoli se amore 7 a di lorenzo migliore in campo 6 e mezzo a racamani a kim 6 e mezzo anche a mario rui 7 a anguissa favoloso se a lobotka 6 e mezzo a elmas 5 e mezzo a lozzano 5 a raspadori 6 e mezzo a quara sceglia 6 e mezzo a spalletti arbitrato manganiello 6 e mezzo 21 falli 3 cartellini grazie ragazzi iscrivetevi al canale attendo i vostri commenti più tardi benevento spal appena finisce poi parto e tre nella notte e domani la copertura della giornata di serie b ciao a tutti un bacione alla prossima da lox ciao